Ah, sei qui. Bene. Hai ottenuto la mia fiducia. Ti dirò quello che posso. Serana e sua madre sono scomparse tanto tempo fa. Ho ordinato a ogni singolo vampiro della corte di cercarle, ma dopo secoli di vane ricerche ho perso la speranza. Nel mio cuore so che è stata mia moglie, Valerica, a portarmi via mia figlia. Se mai dovessi rivederla, pagherà amaramente il suo tradimento. Cos'altro vuoi sapere? Si chiamava Valerica. È scomparsa ormai da molto tempo. Immagino che abbia abbandonato questo mondo, in un modo o nell'altro. Posso solo dire che non ci siamo lasciati nel migliore dei modi. Cos'altro vuoi sapere? Molto bene. Sì, quando ti ringraziavo per avermi riportato mia figlia sana e salva, ero sincero. Tuttavia, non ti ho detto tutto. Non avere la presunzione di dirmi di chi posso o non posso fidarmi. In me risiede la saggezza di decine di cicli vitali. Il mio giudizio non ti riguarda. Ora taci e ascolta cosa ho da dire. Come ben sai, i vampiri sono potenti, ma hanno dei limiti. Il nostro più grande nemico è il sole. E fino ad oggi è stato un avversario imbattibile. Per secoli ho cercato una soluzione a questo problema. Ho trovato una vecchia profezia, scritta da un sacerdote della Falena, studiosi che leggono le antiche pergamene. La profezia racconta di un tempo in cui i vampiri sconfiggeranno il sole e non dovranno più temere la sua tirannia. Credo che il segreto per compiere tale profezia sia scritto sull'antica pergamena di Serana. Ho convocato la corte. Abbiamo nuovi incarichi da svolgere, che riguardano anche te. Vieni ora e ascolta ciò che ho da dire. Figli della notte, ascoltate le mie parole. Il tempo della profezia è giunto. Molto presto sconfiggeremo il sole e fonderemo il nostro nuovo regno di buio eterno. Ora che ho in pugno una delle mie antiche pergamene, dobbiamo trovare un sacerdote della Falena che la legga. Ho sparso false voci riguardo alla scoperta di un'antica pergamena a Skyrim al fine di attirare un sacerdote della Falena. È giunto il momento di raccogliere i frutti di questa vile semina. Andate e cercate informazioni su un sacerdote della Falena in questa regione. Setacciate le città. Parlate con locandieri e cocchieri, con chiunque possa incontrare dei viaggiatori. Andate ora ed eseguite il compito. È un ordine! Sarà male. Hai qualche idea su come trovare un sacerdote della Falena? Skyrim è piuttosto vasto. Molto tempo prima di... Hai capito, no? L'Accademia di Winterhold è sempre stato il mio punto di riferimento per quanto concerne magia o storia. I maghi conoscono quel genere di cose che le persone comuni non dovrebbero sapere. Verrei volentieri con te, ma non so se posso fidarmi del tuo amico. Fammi sapere se vuoi che venga anch'io. Non so se posso fidarmi del tuo amico.